Ciao a tutti, bentornati a un'altra card review Sono state rilasciate tre carte nella giornata di ieri Andiamo a vederle oggi alla fine dello stream Sono due leggendari, una carta di classe Però oltretutto io vorrei parlare ancora di una leggendaria Che nell'ultima review si è riuscita a toccare poco Che secondo me è forse la carta più forte che è stata rilasciata fino adesso Sarebbe Kazakus Anche se poi in realtà va solo a toccare tre carte La prima leggendaria che andiamo a vedere La prima carta che è stata rilasciata è l'Action Master Bird Tre mana, tre quattro, dopo che cassi una spell, refresh la tua hero power Una carta interessante Una carta interessante Allora, per prima cosa Iniziamo ad andare a vedere il costo in mana È un minion, è una leggendaria dal costo intermedio Influenzano le meccaniche che riguardano la Golden Monkey Influenzano le meccaniche che riguardano la Golden Monkey Senza avere nessun tipo di forma di utilizzo Perché poi si ritrova senza spell post Golden Monkey Ma detto questo, comunque un tre mana per Un tre mana tre quattro Quindi a livello di statistiche di body Sale l'apice alto dei minion a tre mana drop Cosa si può dire? Dopo che giochi un hero power, refresha Dopo che cassi una spell, refresha la tua hero power Perché dopo che cassi una spell, la tua hero power non è che costa zero La tua power rimane sempre dello stesso costo Ma la puoi giocare un'altra volta Quindi per esempio, se giochi Action Master Bird Lifetap, Action Master Bird Puoi rigiocare Lifetap al costo di due punti vita più due mana Quindi questo Action Master Bird è pensato per un deck che Utilizza tante spell e utilizza anche tanti hero power Ci sono da dire alcune cose Alcune cose da dire sono queste È che l'hero power di per sé è sempre meno EV a livello di costo in mana Cioè l'hero power è sempre una giocata che ci fa perdere value Da un punto di vista di tempo, board presence o quello che vuoi È sempre una giocata EV inefficient giocare l'hero power Perché per due mana giochi un 1-1 Per due mana perdi due punti vita e peschi una carta Probabilmente l'hero power con l'effetto meno, tra virgolette, meno negativo Da un punto di vista di mana giocato, di efficienza del mana Quindi questa carta qua va a rifresciare la tua hero power Sulle spell giocate Ma il problema è che nel momento in cui ti refrescia l'hero power Non è che ti refrescia l'hero power e te la manda a 1 Ti refrescia l'hero power e l'hero power resta a 2 Quindi anche rifresciarti l'hero power e poterla giocare più volte Non ti porta ad avere un vantaggio in tempo Cioè tu comunque spendi due mana e dici ok Dove potrebbe essere giocato l'Action Master Bird? Le utilizzi di Action Master Bird sono comunque possibili per alcune classi Forse una delle classi potrebbe essere Priest Perché direte voi Priest? Ma perché se Priest ha un hero power da cui ci può estrarre valore Quindi immaginiamo una board con Priest of the Fist e North Shark Cleric Noi possiamo prendere e giocare Action Master Bird Attaccare con il 3-6 Curarlo, pescare una carta, giocare Power War Shield Curarci di 2 punti vita, dare 2 punti vita a un minion Refreshare l'hero power, attaccare con la North Shark Cleric Curare la North Shark Cleric, pescare una carta Insomma questo tipo di meccanica no? Dal lato punto di vista, altre meccaniche in cui può essere utilizzato l'Action Master Bird Boh, forse in un deck hunter particolarmente aggressivo Che vuole magari riuscire a giocare l'hero power 2 volte nello stesso turno Ho Dulcis in fondo In un warrior che ha tendenza a giocare spell come potrebbe essere uno yog warrior Quindi puoi prendere e dici Ah allora gioco l'Action Master Bird Perché ho giocato Giasticare Quindi gioco hero power, mi curo di 4 Bird Spell, mi curo di 4 Spell, mi curo di, metto su stacco 4 armor Quindi praticamente per 6 mana staccherei 12 punti di armor 6 mana per 12 punti di armor E in 6 mana per 12 punti di armor E chiaramente in eb negativa anche in questo caso Perché 5 punti di armor valgono 2 mana 10 punti di armor ne valgono 4 15 punti di armor valgono 6 mana Quindi noi comunque andremo a giocare 12 punti di armor per 6 mana Essendo inefficiente Allora per 3 punti di armor Quindi non ci sono utilizzi nell'Action Master Bird Non ci sono dei grossi utilizzi per l'Action Master Bird A meno che non ci vengono date alcune carte nuove che influenzano hero power Allora, ci sono altre combo da considerare Allora, se volete che vi faccia le fanta combo ve le dico Puoi prendere giochi Fizzle Bang In Warlock Violet Illusionist Tappi Peschi una spell Costa 0 mana La giochi Tappi Peschi una spell Giochi a 0 mana Tappi Peschi una spell Giochi a 0 mana Poi in realtà non è così Perché poi l'Aero Power dello Shaman ti costa comunque 2 mana Non è che l'Aero Power ti va a 0 Quindi non riesco a vedere Non riesco a vedere Non riesco a vedere L'utilizzo pratico in questo momento per l'Action Master Bird Nonostante Nonostante Sì perché Però lo spell Dovrebbe essere un deck Warlock Che gioca soltanto spell Dovresti giocare Bird Più La La Violet Illusionist Che non ti fa prendere danno Ah con Chogal Quindi dovresti fare tipo Chogal No, non ti serve Chogal Devi giocare l'Aero Power Che non ti costa nulla Non ti costa mana Ah no Wilfred Fitzelbank La carta pescata dal Lifetap Ti costa 0 mana Il problema è che ti finisce il mana Cioè non prendi danno dalla Violet Illusionist Però ti finisce il mana Quindi dovresti giocare Chogal Violet Illusionist Bird The Action Master Non lo so Tappare per andare dove Non lo so neanche io Quindi l'Action Master Bird In questo momento Resta una neutrale Influenza alcune meccaniche Influenza più che altro Justicard Una carta un po' me Anche se il body è buono Mai dire mai Magari questa carta esploderà Per qualche arcano motivo Ma Considerato anche il fatto Che i minion di The Grand Tournament Entusciranno a un certo punto Della rotazione standard Dalla fine dell'anno del Kraken Povero Auction Master Bird Rimane un po' gli così Nonostante la catena d'oro Bella Bello Simpatico La prossima leggendaria Che andiamo a vedere È Shaku The Controller Una leggendaria per Rogue 3 mana 2-3 Stealth Ogni volta questo minion attacca Guadagna Prendi una carta random Ma aggiungi una carta random Alla tua mano Dalla cassa del tuo avversario Io oggi ho visto Andre Yagmoth Discutere sta carta Io non sono convinto Sul giudizio che ha dato Andre Per dire Andre comunque Nel senso C'è i suoi punti di vista Io c'è Andre Yagmoth E chiaramente Questa streama prima di me Andre streama verso mezzogiorno Quindi quando sono lì Che guardo Guardo anche un po' Cosa fa lui Cosa streama Le card review Per me Shaku The Collector È una carta interessante Allora Quali sono i motivi Per cui Shaku The Collector È una carta interessante Allora I motivi sono questi È una carta che Quando viene giocata Fa uno 0-5 In tempo su board Perché un 3 mana Per un 2-3 In realtà vorremmo giocare un 3-4 Per 3 mana Ma io considero un 3 mana 3-3 In live Nel momento in cui Non lo giochiamo su board Ok Quindi partiamo dal presupposto Che rappresento Un E-B negativo Quando viene giocato Partiamo anche dal presupposto Che la gente si metteva le mani Nei pantaloni E si toccava Quando ha visto Xari Poisoned Mind E poi Xari Poisoned Mind È stata presa È stata messa lì Nel cassetto Non è stata più giocata Se non sbaglio Perché non è che vedo Tutti questi Xari Poisoned Mind Ma tutti erano lì Xari Poisoned Mind Finalmente Sta carta Da un assenso A Miracle Rogue Perché con le spell No Invece no Pure è stato giocato Xari Poisoned Mind Xari Poisoned Mind Costa 4 mana De un 3-2 Raga A casa mia E voi dite Eh si ma C'ha il detratto Ti dà doppia spell Da mana Io ci faccio tutte i calls No Non è che ci fai tutte i calls Shackle dei Collector Si rappresentano A tempo lost Di 0.5 Quando viene giocato Su board Ed entra con Stealth Entrando con Stealth È un minion 3 mana 2-3 Con Stealth Allora Un minion 3 mana 2-3 Con Stealth È in even Come in even Il Silent Knight Che è un 3 mana 2-2 Divine Shield Stealth Quel minion è in even Questo minion è in even Perché è un 3 mana 2-3 Stealth Non è un 3 mana 2-3 Punto Prima cosa Seconda cosa da considerare La meccanica Bargle Quindi sta meccanica Di usare carte Del deck della bersaglia La meccanica Su cui sta spingendo Tanto la blizzard Abbiamo Abbiamo le terre Al peddler Abbiamo Svashbargler Abbiamo L'Undercity Axter Abbiamo un po' di Car Abbiamo Bargle stesso Abbiamo un po' di carte Che utilizzano questa Che deck C'è un deck già Che vuole utilizzare Questo tipo di meccanica Bargle Giocare carte della bersaglia Però C'è un'altra cosa da considerare Quali sono le altre cose da considerare Consideriamo altre cose Consideriamolo anche il fatto Che questo minion Viene fuori in curva Insieme a Master of Disguise Quindi io posso giocare Shack of the Collector A turno 3 Va bene Metto giù Hop Gioca la sua carta Con iniziativa Noi prendiamo Attacchiamo faccia Perché non possiamo Far trade su minion Nel momento in cui Questo minion attacca Pesca una carta Attacca faccia Peschiamo una Troviamo una carta random Master of Disguise 4-1-4-4 Dice stealth a minion Boom Lo ristaltiamo Peschiamo un'altra carta La carta pescata Da Bargle Da Shack of the Collector Una carta pescata Bene o male Vale 2 punti in tempo Non essendo una carta Nel nostro deck Magari ne vale 1,5 Io ho sempre la tendenza A considerare una carta Extra come 2 punti in tempo Anche che sia dal deck O non sia dal deck Non vado a fare troppo Il pignolo Lo metto a dire Ah ma no Ma perché la carta Pelesa dalla classe avversaria Non è la carta del nostro deck Quindi quel valore Che può avere Minore rispetto a una carta Pescata dal nostro deck Che vale 2 punti in tempo E quindi io ci posso Applicare un valore Che va da 1,45 A 1,75 In base alla classe Contro cui gioco Perché se gioco contro Warlock Trovare carte di classe di Warlock Mi interessa di meno Che se gioco contro Walk Se gioco contro Hunter Che se gioco contro Che se ne so io Warrior O se gioco contro Druido Che magari delle carte O se gioco contro Paladino Che in teoria Delle carte di classe più valide Ma però ci sono i segreti Da un mana E allora tutte le volte Che trovo i segreti da un mana Quella carta lì Praticamente non ha avuto effetto Cioè Questa carta Shaku the Collector Non c'è scritto 3 mana 2,3 stealth Quando questo minion Attacca faccia Quando questo minion Rimuove Quando questo minion Attacca appunto Non è un Non è un Non è il 2 mana 2,2 Che ti da un coin Quando va faccia Che c'è la meccanica pilfer Cioè questo è un minion Che quando attacca Ti fa pescare una carta Ok Quando attacca Shaku Quando questa carta attacca Pesca una carta Questa Questa car Cioè nel senso Questo attacco Shaku Lo fa praticamente sempre Quindi Se esistesse in Airstone Una carta 3 mana 2,3 Battlecry Prenditi una carta Del deck Dell'avversario Rogue la giocherebbe Forse no Forse sì Non lo so Perché poi in realtà Il 3 mana drop Per il rogue È contestato Tanto Ma dal punto di vista Di minion Non è neanche contestato Così tanto Perché il rogue Gioca gli agent Gioca il fan of knife Però Per me Shaku The Collector Non è Una merda Assolutamente Secondo me Shaku The Collector È una carta interessante Abbiamo già ricevuto Da Blizzard Un minion 5,5 Stealth Che Prende Stealth Nel momento in cui Attacca e rimuove un minion Se non sbaglio Andiamo a vedere Se lo trovo Non è Lotus Agent È Lotus Assassin Quindi Quindi c'è C'è il 5 mana 5,5 Stealth Quando questo minion Un attacchio Uccide un minion Whenever this minion Kies an enemy Gain Stealth Quindi abbiamo Sto 5,5 5 mana Stealth Che quando rimuove un minion Riguadagna Stealth Che è un minion Che ha una tendenza Più che controllo Ok Ci viene dato un altro Due minion Abbiamo visto di classe Per rogue Due minion Abbiamo visto di classe Per rogue E sono due minion Stealthati Quindi Blizzard Pensa a un rogue Che gioca con Una tipologia di minion Che hanno Stealth Pensa a un rogue Che utilizza una meccanica Del tipo Bargol Pensa a una carta Che dia valore Ai minion Stealthati Su board Secondo me Pensa a una spell Che dia valore La tua board Nel momento in cui Dei minion Stealthati Del tipo Una spell Che ne so Una spell Da 2 mana Fai un danno A tutta la board Avversaria Fai un danno In più Per ogni minion Stealthato Che hai Una spell Da 1 mana Fai 2 danni A un minion Raddoppia il danno Per ogni minion Stealthato Che hai Su board Una carta Da 1 mana Dai più 1 Pi 1 A tutti i minion Stealthati Su board Non lo so Dai più 2 Pi 2 A tutti i minion Stealthati Sulla tua board Perché dare Una spell Da 1 mana Che da 1 Pi 1 La tua board C'è già per druido Quindi magari Una spell Da 1 mana Che da più 2 Pi 2 La tua board Su tutti i minion Stealthati Ad ogni modo C'è un meccanismo Penso Mi aspetto Di vedere Di classe Per rogue Una carta Sotto la forma Di spell Sotto la forma Di minion Che dia valore In tempo Alla meccanica Stealth E quindi Che dia valore In tempo Ai minion Che hanno Stealth Su board Ok Che ne so Una spell Da 1 mana Pesca una carta Per ogni minion Stealthato Che hai su board Ok Ci può sta Una spell Da 1 mana Pesca una carta Per ogni minion Stealthato Che hai su board C'hai giù Un solo minion Ne peschi 1 Hai giù 2 minion Ne peschi 2 Rotta Ne hai giù 3 Ne peschi 3 Rottissima Però Se per 1 mana Tu hai minion Stealthato Così puoi prendere Puoi giocare Gadgetzan Minion Conceal Peschi 1 carta Dal conceal Spendi 1 mana Peschi 2 carte Per i 2 minion Stealthati Che hai su board Hai giù anche Gadgetzan Ne peschi 1 terza Ne aspetto Ne aspetto di vedere Una cosa di questo tipo Potrebbe uscire Potrebbe uscire Una spell per rogue Che ti fa pescare In base ai minion Che tu hai stealthato Potrebbe uscire Una spell per rogue Che ti cura In base al numero Dei minion Che hai stealthati Su board Potrebbe Abbiamo visto Pochissime carte Però io capisco Qual è la direzione Cioè io vedo Qualcosina E dico Aspetta Cioè non è che Guardate che altre carte Così escono Cioè nel senso Non è che ci ha dato stealth E dice No vabbè raga Avevo dato sto stealth Qua punto Guardate che altre carte Che utilizzano Con la meccanica bar goal Ne escono Cioè secondo me Non siamo rilegati All'eterral peddler Che è il 5 mana 5 6 Se non sbaglio Che ti fa discantare Le carte che hai in mano Di 2 mana Che quella carta lì È rotta come la merda Ma la gente Non ha percezione Le reali sulle carte Quindi non si rende conto Poi effettivamente Di quanto forte sia una carta Perché dice Al momento il meta Questa carta Non esprime il suo valore No ma secondo me Sta carta qua Non è forte L'eterral peddler È una carta fortissima Terral peddler È una carta fortissima Che vi renderete conto Della sua forza Col passare del tempo Quando farà da spina dorsale A bar goal rogue Perché terral peddler È una carta Che prende E ti innerva Tutte le carte Che hai in mano Non della tua classe E passando il tempo Le carte che tu hai in mano Non della tua classe In rogue Ne avrai sempre di più Perché questa è la tendenza Che dà rogue la blizzard E allora il valore Di terral peddler Aumenta E allora il valore Di una carta Come shaku the collector Aumenta Ok Avete capito Cioè Avete capito Il mio ragionamento E uno può anche vedere Cioè Cosa pensate Ci hanno dato Cioè Andiamo a vedere un po' Possiamo vedere un po' L'ultima carta che è uscita Poi andiamo a vedere Qualche carta Nel singolo Tanto siamo qua Chiacchierati Sulla mia ragazza Grok fu master 5 mana 3 4 Windfury 5 mana 3 4 Fa meno un punto Fa meno Un punto Su board In tempo Secca E windfury Io non lo considero Un attributo Che valga Più di 0.5 In tempo E una neutrale E' una carta Che non vedrà gioco Perché è una carta Di per sé Nel momento in cui Tu la metti su board Perde il valore Questa carta Quando tu la metti su board Perdi il valore Poi in arena Potrà anche essere giocata In qualche modo Questa carta qua Quando la metti su board Perdi il valore Allora Uno può dire Ah ma io voglio giocare Sta carta qua Con power overwhelming Ah ma io voglio giocare Sta carta qua Con un deck buff Che buffi Personalmente Questa carta Con la meccanica Windfury Tutti i minion Con meccanica Windfury Neutrali Hanno sempre fallito Dalla Windfury Arpi Eccetera Al Tralmar Farseer Sono carte Che le carte Con Windfury All'alto costo Sono carte Che hanno sempre fallito In Airstone Fino ad oggi Quindi sinceramente Su questa carta qua Non è che mi sape di dire No sta carta riuscirà Sta carta non riesce Cioè sta carta non riesce Non viene fuori bene A vederla così E su questo siamo d'accordo Perché questa qua è una carta Che comunque quando viene giocata Perde valore Shaku Quando viene giocato Non è che tu perdi tutto sto valore Tu giochi per un 3 mana Giochi un 2-3 stealth Punto Per 3 mana Giochi un 2-3 stealth Sei Sei in break even Come valore Non è che sei Non è che tu dici Ah cazzo Mi rappresento una tempo loss Esagerata No Non rappresento una tempo loss Esagerata E in un meta Che in teoria Vuole andare Una tendenza Più control In futuro Anche vedendo La nuova leggendaria Che deve uscire Stile Rino Jackson Spingerà i game A essere più lunghi Shaku De collector Si può inserire In modo decente Sempre con la prospettiva Che il rogue Prenda qualche altra carta Che buffi La meccanica bargole O Che ci sia la meccanica Che utilizzo Meccanica bardo L'altra carta Questa carta qua Questa carta qua Cazacus È un problema grosso Questa carta qua È un problema grosso Questa carta qua È un problema grosso Perché purtroppo Possiamo andare a vedere Cosa ci dà Me l'ha passato oggi Simo Questa immagine L'aveva presa da reddit Possiamo andare a vedere Le spell Come si possono comporre Bene o male Vi faccio vedere Quali sono le spell Che compone Cazacus Così capite la potenza Della carta E vi rendete conto Che c'è da preoccuparsi Perché Sta carta non è simpatica Veramente forte Interessante che però È legata soltanto A tre classi Allora Tre costi in mana La spell Un mana Cinque e dieci mana Vari effetti Che si possono applicare Quindi tu prima Scegli il costo in mana E poi scegli due effetti Se la carta costa un mana Si presuppone Che un effetto Può essere Pesca una carta Pesca due carte Pesca tre carte Però io guardo La spell da mana Una spell da mana Che ti fa pescare una carta E ti resta un minion Che è morto durante la partita È broken È broken Ed è rotta come la morte Cioè tutte queste carte qua Sono rotte di dio Cioè Rotte di dio Perché un mana Pesca una carta E fai due danni Vabbè Un mana Fai due danni E trovi quattro armor Vabbè Che poi comunque Questa meccanica È discover Quindi sarà random Quindi tu non è che trovi Non è che ti da tutte queste Immagino che tu prendi Scegli il costo in mana E poi tra Draw Summon Deal Gain Transform Add Give a minion Deal Freeze Immagino che tra questi attributi Te ne vengono tre E poi al turno dopo Te ne vengono altri tre Da scegliere Ok Però Add a random demon To your hand To random demon Sì ma Raga Sta qua Cioè Dov'è Pesca tre carte Cioè Pesca tre carte Ed evoca tre minion Che sono morti Evoca tre minion Dei tuoi che sono morti In sta partita Dieci mana È fortissimissimissimo Sei danni a tutti i minion È una merda Sei danni a tutti i minion È un board clear Questo è un clear Interessante Dieci di armor Vabbè All minions In uno uno Fortissimo Tre random demons To your hand Per warlock Figo Sei di vita Give your minions Sei punti vita Cioè Tutta la tua board Prende sei punti vita Boh Fai otto danni Per reach Quindi tu puoi prendere E fare otto danni Sì c'è il video Prima tre Poi altre tre Poi carte in mano Da dieci Assolutamente Prima scegli il costo E poi doppia Doppia abilità La carta è forte Cioè Kazakus è forte La carta mi preoccupa Ma la carta preoccupa Soprattutto Per il resta Tre minion Che sono morti Durante questa partita Questo Resta tre minion Che sono morti In questo game Questo mi preoccupa Mi preoccupa anche Trasforma tutti i minion In uno uno Mi preoccupa anche Che fai sei danni A tutti i minion Che poi alla fine È un board clear All'awakers Questa carta Può essere giocata In mage Priest e lock E la mia speculazione È questa Che fino a quando Non uscirà Dalla rotazione Rino Jackson Rino mage Potrebbe diventare Porte Cioè Posso un attimo Portare le mani avanti No E dire Secondo me Fare delle speculazioni Quali sono le altre carte Interessanti Rino mage Rino mage Effettivamente Con Kazakus Rino Jackson Ice block Un po' Un po' Mi colpisce Quali sono le altre carte Che secondo me Sono da considerare Queste che sono uscite Andiamo a vedere Le carte Che sono da considerare Fatemi partire dal basso Una carta Che a me spaventa È questa Getaway Codo Poi magari mi sbaglio Però Getaway Codo Mi fa paura Mi fa paura Getaway Codo Mi fa paura In control paladin Murlock Ti rimuovo Cioè Se la meccanica è Muore War Muore war leader War leader morto Rimane nella meccanica Dell'anything can happen Mi da in mano Warlock Mi da Mi ridà in mano Un altro war leader E lo gioco il turno dopo A me sta carta spaventa A me Getaway Codo Spaventa anche con Doomsayer Gioco Getaway Codo Turno dopo Metto giù Doomsayer Bam Me lo rimuovi Bene Me lo riprendo Me lo riprendo in mano Bam Te lo rigioco A me Getaway Codo Mi fa paura Con Fa paura Con tante cose Raga Fa paura Con rag Fa paura Con tutto Cioè lo giochi con Sylvanas Fa male Lo giochi con Ragnaros the Lightlord Fa male Lo giochi con Ragnaros the Firelord Fa male Lo giochi con Tyrion Fa malerrimo Qualsiasi carta Lo giochi Fa male Però è lenta Però è lenta Come come carta Siamo d'accordo È lenta Alla fine Repentance È più o meno simile No Repentance Non è più o meno simile Perché Repentance Cosa fa Repentance Manda un HP Minion Dell'avversario Repentance Non è la carta Che ti fa restare Ti resta un minion Te lo manda un HP No È tutto diverso L'utilizzo È tutto diverso L'utilizzo Può giocare anche Con Rino Jackson Questa carta qua Fa paura Cioè se uno È un giocatore Sensibile di carte Come può essere Magico Erson Per me Il gateway Codo Fa paura Però dall'altro Punto di vista Il gateway Codo Non procca Durante il proprio Turno Quindi la sua Forza Non è Non è così Forte Però Utilizzato su un minion Che è pericoloso Su board Quindi cioè Se tu giochi Getaway Codo E metti giù Rag Rag lo deve Rimuovere Ti giù Ragnaros The Light Lord Rag lo deve Rimuovere Cioè Oppo Lo deve Rimuovere Se giochi Tyrion Outtaunt Lo deve Rimuovere Soggot The Siliter Lo deve Rimuovere Isera Non lo so Isera Anche Cioè tu puoi Prendere E dire Ok allora Facciamo la bella Cosa Ti gioco Getaway Codo Più Isera L'unico Che riesce A bypassare Getaway Codo È Shaman Con X E Mage Con Polymorph Poi gli altri Devono sempre Andare di Interessanti E carte Interessante Sono Main Street Martial Interessante Raga Sono una carta Interessante Anche lei Assolutamente Small Time Recruit Raga Se due carte Assieme Io forse Non so se Capite Cioè capite Cioè capite Che voi Potete giocare Small Time Recruit E pescarvi Un Main Street Martial Pescarvi Un Abusive Sergent Pescarvi Un Argent Squire Per esempio Ma è lo Small Time Recruit Piace La leggendaria Del Pagli È carina Come abbiamo visto L'altro giorno Nelle Le carte Che mi fanno Più paura Le carte Che mi fanno È Dragonic Operative Va bene Nel senso Sta carta Qua ci pensi Sempre Questa carta Qua Cosa che mi Impressione Di sta carta Qua è Giocarla Con Bram Bronzeberg Dragonic Operative Più Bram Bronzeberg Ho speso 8 mana Ho giocato Un 2 4 Ho giocato Un 5 6 Sono sopra E V Su Body Su board E in più È troppo forte Da cui non c'è Non c'è Vittoria Cioè è troppo forte Veramente forte Poi Erso Non è un gioco In cui Ah tu hai più carte Dall'avversario Hai vinto C'è ancora una cosa Che si chiama Tempo Proprio prendere E dire ok Tu puoi trovare Tutte le carte Che vuoi Puoi discover Tutte le carte Che vuoi Sei sotto Tiro power Di Hunter Sei sotto I 10 HP Ti gioco Il commando Di Il tuo dragone Operativo Non fa nulla Però Se è giocato In un meta Un po' più Mid Midrange Controllish Eh Sta carta qua Spacca la testa L'altra carta Che fa veramente Paura È questa Bran Kazakus Cosa ne pensi Che è rotta Come la morte Cioè Oltretutto Kazakus A 4 bana Con Bran Lo giochi di settima Sono cose brutte Sono cose brutte Sono cose che Non dovete pensarci Che poi dopo Vi spaventate Non pensate a queste cose Pinsize Potion Forte Molto forte Poi ste carte qua Raga Il counterfeit Coin Il counterfeit Coin Raga È veramente forte Però la gente Si sta casando troppo Per questa carta State un attimo calmi Cioè Resta una mox È forte Però Allora La mox È un permanente Resta su board E lo tappi ogni turno Questo Cioè È una scarta Da 0 mana Che ti dà un cristallo Ma non è che questo È un artefatto Che resta su board Ogni turno Lo tappi Quindi Attenzione a dire Ah la mox La mox Fino a un certo punto La mox è un permanente Il coin non è un permanente Il coin è un cazzo di lotus A un mana Se chi viene da magic Capisce quello che sto dicendo Quindi Un coin Che ti dà un mana in colore A un mana Non è che la carta Ah wow Però questa carta qua Rimane forte Rimane forte A me Ste carte qua Interessano Tanto Io Cioè Il mio grande punto di domanda Sono ste Tre carte qua Che oltre tutte Anche i disegni Cioè Lotus Argent Ha un disegno Così bello Che non posso non pensare Che la Blizzard Il Lotus Argent Sappia che sta carta Venga giocata Perché sta carta Vuole essere sulla tua board Capisci Sta carta qua Guarda il disegno Vedi con i due pandini Incazzati Con gli occhi verdi Con l'armatura di Giada E con gli inserti d'oro Che l'hanno comprata Ha costato 25.000 euro Sono cose pesate Nel senso Devi fare degli investimenti Per comprarti l'armatura Così già da oro Cioè Lotus Argent Guarda che bello Che è Cioè Boh A me piace Boh Ma sta carta qua Raga Cioè La possibilità Di andare A prendere Cioè Sicuramente Sicuramente Quando uscirà L'espansione Sicuramente La gente giocherà Rhinolok Con dentro Cabal Courier E Kazakus E Bran E Kazi E Mazzi Sicuramente 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 Nei deck Rino Ci sarà la tendenza A giocare carte Che danno valore Come Lotus Argent Grim Street In Format E Kabal Courier Ok Druid Rogue Shaman Hunter Paladin Warrior Mage Priest Warlock Ma sicuramente Anche Rhinomage Giocherà Il Kabal Courier Sicuramente Anche Rhinomage Giocherà Il Kabal Courier Quindi già sappiamo Che in Rhinolok E in Rhinomage Il Kabal Courier Probabilmente Verrà giocato Perché capisci anche te Caro il mio Lucius Che guardi lo stream Da casa Che se c'è una carta Presente Che è Bram Bronzebird Bram Bronzebird Vuoi che prenda valore Da più carte possibili Quindi non è che tu vuoi giocare Bram Bronzebird Soltanto su Kazakus Bram Bronzebird Lo vuoi poter giocare Anche su Kabal Courier Perché non è che giocare Bram Bronzebird Più Kabal Courier A 6 mana E giocare un 2-4 Un 2-2 E fare doppio battle Cry Doppio discover Una carta di Mage Priest o Warlock E tu stai giocando Rhinolok E magari trovi accesso A una Fireball Stai giocando Rhinolok E magari trovi accesso A un Ice Block Quindi tu con la Kabal Courier Stai giocando Rhinolok Ti prendi un Ice Block E c'è Rhinolok E c'è Rhinolok E c'è Rhinolok Nel deck Cioè dovete cercare di capire Che si aprono degli scenari Che fino a ieri Non erano Non erano pensabili E la possibilità di giocare Questa carta Discover di un'altra classe Il valore Per me In tempo È superiore Perché? Perché la realtà dei fatti Che tu inserisci nel tuo deck Una carta Che non dovrebbe esistere Non dovrebbe esistere Tu Oppo non può giocare intorno Oppo non può giocare intorno Ad Rhinolok Non può prendere E trovarsi di fronte Un Rhinolok E dire Ah no però lui gioca Rhinolok No non puoi Cioè già inserire Rhinolok E poi Cioè Fa brutto raga Fa brutto Fa brutto Da un altro punto di vista Grim Grim Street Informant Che è scritto In elettorale In chat Che fa No guarda che il Grim Street Informant Ti può dare comunque armi Ti può dare l'arma dell'Hunter Ti può dare l'arma del Paladin Ti può dare l'arma del Warrior Sì Però Grim Street Informant Come ho detto nella review Ci sono alcune cose da considerare Prima cosa Carte di classi Di Paladin Warrior E Hunter Sono forti Sì Sono molto forti Fino a un certo punto Fino a un certo punto Perché poi ci devi mettere dentro Che in Wario Ci sono tante carte strane Pallic ha tanti segreti Don Mana L'Hunter C'è un sacco di carte strambe Pure lui C'è molta più consistenza Secondo me In Mage Priest Warlock E in Druid Rogue Shaman Che in Hunter Paladin e Warrior Ma questa è un'idea mia E poi l'altra cosa da considerare Secondo me Su queste tre simpatici birboni Comunque le carte Multiclasse In totale Nell'espansione Saranno nove L'hanno scritto oggi Quelli della Blizzard Se non sbaglio Un dev L'ha detto in un'intervista Quello che dicevo L'altro giorno Nella review Dicevo Quanto è l'impatto Di perdita in tempo Su board Cioè Allora Se tu giochi Un 2 Mana 1 1 Cioè È peggio giocare Un 2 Mana 1 1 Che un 5 Mana 5 3 È peggio giocare Un 2 Mana 1 1 1 Che è un 3 Mana 2 2 Cioè Perché? Perché tu Per 2 Mana Vai a giocare Un 1 1 E fai meno Un punto in tempo E tu dici Ok Poi dici Sì Io per 3 Mana Gioco un 2 2 Anche lì Vado a fare Un punto in meno In tempo Sì Ma in rapporto Al turno giocato Tu stai facendo Il meno 50% Stai facendo Il meno 33% Perché perdere Un punto in tempo A T3 Significa fare Meno 33% Di efficienza Perdere Un punto in tempo A T2 Significa fare Un meno 50% Del tempo in efficienza Non so se riesco a spiegare Il mio concetto Capite? Mentre invece Fare a T5 Mettere giù Un 5 3 Che vale quasi Come un 4 4 Che ricorda un po' Il L'Etheral Conjurer Che è una carta Della Madonna Perché l'Etheral Conjurer È una carta Della Madonna Ed è fortissimo L'Etheral Conjurer È mollatelo E la gente Non gioca L'Etheral Conjurer Semplicemente perché È sostituito Da altre carte Ma l'Etheral Conjurer Vanno questi deck In che liste vanno questi deck In che liste vanno queste carte In che lista va il Grim Street Informant Che ti dà una carta Hunter Paladino Warrior Il Grim Street Informant Per essere una carta decente Sarebbe dovuto essere un 1-2 Secondo me questo Forse Forse sarebbe stato troppo forte 2 mana 1-2 Però in realtà Noi abbiamo La carta del Priest Che è il Museum Curator Che è un 2 mana 1-2 Battlecry Discovera Minion With Detrattol Discoverare un Minion Con Detrattol Secondo me Come discover Quasi A livello Se non addirittura Più forte Che discoverare una carta Di classe Hunter Paladino Warrior Ed è un 2 mana 1-2 Però è di classe Le carte di classe Tutti sanno Che sono più forti Che le carte neutrali Quindi per forza L'Informant Grim Street Informant Va nel Control Hunter K Nel Priest Zoo No non va nel Priest Zoo Cioè è difficile comprendere Dove vanno ste carte Però raga Ste carte qua È un tutto nulla Cioè o sfondano Che spaccano O altrimenti no L'altra carta che fa paura È questa Critters Venuti dall'universo Parallelo I Critters Vengono Figa Atterrano Precipitano dentro Il fienile di Nonno Pino Figa Poi vengono fuori Si mangiano tutto il paese Questo è un Critters Però c'ha le zampette Da Polipino Patches Deparate Raga è forte 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 Fortissimo Forterrimo Questo è proprio fortissimo Cioè in deck pirata Grazie a Dio In deck pirata Perché se fossi in qualsiasi deck Sarebbe un casino Poi basta Sono queste le carte principali Cioè che adesso Dovrei andare a vederle tutte Però poi Sono queste le carte Che più mi hanno Che più mi danno da pensare Però questo raga Questo qua È Kazakus È un rompicoglioni Io ti odio Figa Io l'odio di già L'odio di già Comunque è tutto Per questa piccola review Per questa seconda piccola review Grazie per aver seguito Per aver seguito Questa card review Grazie a tutti